Regione Toscana, il Consiglio regionale. Bene, dunque andiamo a questo punto a sviscerare insieme alle nostre riprese l'argomento che abbiamo selezionato per voi, come sempre sentiremo i pareri sia della maggioranza che della opposizione in Consiglio regionale della Toscana. Intanto occorre dire che Fidi Toscana è nato nel 1975 e anche nel rapporto che ha stilato Prometeia ci dice che ha svolto un ruolo positivo per l'economia toscana, per la crescita delle piccole e medie imprese, per lo sviluppo complessivamente. Oggi però è cambiato il quadro normativo, soprattutto a seguito della pandemia si sono rafforzati gli strumenti nazionali per quanto riguarda il sostegno al credito e l'innovazione delle imprese. Con la modifica dell'articolo 18 del decreto legislativo 112 sono praticamente venute meno le garanzie pubbliche di carattere locale. Allora occorre ridefinire un ruolo per quanto riguarda gli strumenti di cui la Toscana ha bisogno per continuare a sostenere le imprese, per accompagnarle, per avere un effetto positivo nell'ambito dello sviluppo futuro della nostra economia. Ecco perché la proposta che ci viene fatta dall'assessore Marras a nome della Giunta trova il nostro accordo per quanto riguarda la possibilità di avere un'agenzia integrata di sviluppo complessivo che esiste già in house, ecco perché non andiamo a trasformare Fidi Toscana perché sviluppo Toscana è già in house, esiste già e con l'apporto di una parte del know-how di Fidi Toscana e di Sici può rappresentare questa agenzia integrata che dia impulso e sostegno alle nostre imprese. Ovviamente rimane l'altro aspetto, quale mission e cosa dovrà fare Fidi Toscana perché noi non intendiamo comunque abbandonare l'idea che ci possa essere comunque ancora un futuro ed un ruolo. Vorremmo che questo futuro sia disegnato attraverso la ricerca di uno o più partner nell'ambito del privato che possono indicare e aiutare la Regione a definirlo. La valutazione è veramente sorprendente, non si capisce per quale motivo un soggetto privato dovrebbe acquisire una società che la Regione Toscana dichiara non più strategica e ci domandiamo inoltre che fine faranno quelle piccole e medie imprese che finora si sono affidate alle garanzie di Fidi Toscana. Non si è capito come mai la Regione Toscana ha creato due società praticamente uguali e adesso se ne accorge e si vuole disfare di quella che è nata prima. Quindi un sospetto c'è, ossia che cosa c'è dentro la pancia di Fidi Toscana? È stata veramente risanata? Come mai la Regione Toscana se ne vuole disfare? La soluzione fondamentale sarebbe quella prima di tutto di fare un piano regionale di sviluppo, avere un'idea chiara e precisa di cosa si vuole fare in questa Regione e come ho ribadito anche in Aula la cosa principale sarebbe quella finalmente di creare una mobilità efficiente che metta in contatto la costa con l'interno. È inutile continuare a discutere di grandi aeroporti della Darsena Europa se poi non esistono i collegamenti per mettere in contatto la costa con l'interno e soprattutto con il nord Europa. Ma ci sono forti incertezze su questa strategia. Anzitutto abbiamo perso un anno, un anno prezioso, in cui Fidi Toscana aveva portato avanti anche all'interno del CDA una politica virtuosa che potesse portare a una prospettiva in house. Queste aspettative oggi sono state sostanzialmente tradite dalla Giunta, lo abbiamo visto chiaramente, si punta su sviluppo Toscana, un'operazione che noi riteniamo molto fragile perché ci sono poche certezze, ci sono pochi numeri, manca un piano industriale e noi soprattutto arriviamo in forte ritardo rispetto ad altre realtà regionali che già si sono dotate di strumenti per supportare il tessuto economico. Parlare oggi in un contesto estremamente complesso in cui è partito già il PNRR, in cui sostanzialmente dovevamo già aver approntato questi strumenti, ci pare francamente una certificazione del fallimento politico della Giunta Gianni, il primo vero fallimento politico. E certo oggi sentirsi dire in aula che Fidi Toscana è a rischio nella propria continuità aziendale non rende naturalmente appetibile agli operatori di mercato proporsi anche per fare questo tipo di investimenti. È un'operazione che deve essere fatta se la Giunta riterrà di portarla avanti, come sembra, in tempi rapidissimi. Io credo che da qui, Massimo, a giugno dobbiamo avere certezza su chi sono gli investitori privati, altrimenti, ripeto, continuiamo a macinare milioni, a bruciarli anzi e quindi a bruciare risorse dei cittadini toscani e soprattutto lo facciamo senza una vera effettiva strategia che riorganizzi il complesso delle società partecipate. Noi oggi abbiamo dei doppioni, abbiamo società che non si comprende bene neanche che tipo di senso abbiano e quale mission di fatto oggi abbiano, si certifica che però ci costano e quindi, a nostro avviso, alla luce della lezione che oggi apprendiamo su Fili Toscana, dove le marce indietro praticamente sono all'ordine del giorno, voi pensate semplicemente all'operazione Toscana Strade, lanciata quasi, come dire, al pari di Fili Toscana, quello che ci aspettiamo forse è che l'anno prossimo ci vengano a dire che le risorse non ci sono, esattamente come è stato fatto. È chiaro che questo non è un atteggiamento neppure serio, perché se si prospetta una certa operazione si crea anche affidabilità nei confronti di chi dovrebbe investire, nei confronti dei soci. Qui si sta appertendo competitività in questa regione e quindi o si pone rimedio con politiche efficaci. Mi piace ricordare che neppure, ecco, due anni fa in campagna elettorale, da una parte il governatore attuale, Gianni, diceva che avrebbe trasformato Fili Toscana in house, dall'altra parte Susanna Ceccardi diffidava da comprare nuove quote di Fili Toscana da parte della regione, quindi trasformarla in house. Noi siamo per la libertà di mercato, per un adeguato sostegno alle imprese. Sta al PD governare la regione Toscana e sta tornando indietro rispetto a quello che era stato detto in campagna elettorale e messo nel programma di governo. Quindi si va verso la cessione delle quote di Fili Toscana da parte della regione Toscana e si dovrebbe concentrare la maggior parte delle attività di sostegno alle imprese, investimenti, consolidamenti delle filiere, transizione ecologica e tecnologica in sviluppo Toscana, così da farne una agenzia interna. La realtà è che si sta perdendo tempo e si continua a perdere tempo senza delineare una nuova mission per Fili Toscana. Quindi il tempo perso ha un costo e questo costo lo pagano i toscani per l'inefficienza ancora una volta della sinistra. Ma cittadini toscani, le imprese, i giovani non ci chiedono di controllare una banca o una finanziaria, ci chiedono di sostenere l'impresa, l'economia, di filtrare i bandi comunitari, di essere interlocutori con i bandi del PNRR, di favorire le start-up, di favorire l'economia e il rilancio di un settore produttivo che deve creare ricchezza. Solo creando ricchezza la si può distribuire. È fondamentale investire in un'agenzia regionale di sviluppo, potenziare questa agenzia, avvidarla a una governance che possa avere espressione della rappresentatività della Toscana, rilanciare le professionalità e soprattutto collocare nel mercato le nostre quote di Fili Toscana per fare in modo che soggetti privati facciano il loro lavoro. Oggi con il Fondo di Garanzie Centrali, con un ruolo diverso che sta giocando lo Stato sulle garanzie e con il lavoro che fanno i consorsi fili del mondo delle associazioni di categoria, la partita delle garanzie del credito è cambiata, il mercato è cambiato. A noi non ci chiede la legge, la politica non deve svolgere questo ruolo, noi dobbiamo giocare una partita differente. Quindi la nostra convinzione è quella di potenziare l'agenzia di sviluppo regionale, sostenere il mondo dell'impresa e così facendo possiamo avere, se abbiamo 20 milioni a disposizione, fare questi come dei volani moltiplicatori cercando di accompagnare la nascita delle imprese, il sostegno, soprattutto nel settore commerciale, artigianale, piccole e medie imprese che più di altri stanno faticando, mentre le grandi imprese magari si difendono in un contesto globale, nonostante la difficoltà, le piccole e medie sono in oggettiva difficoltà e noi dobbiamo stare al loro fianco. Fondamentalmente non ci convincono i tempi, perché dal 2018, quando l'allora governatore Rossi iniziava a non aver chiaro quale fosse il futuro di Fidi Toscana, abbiamo perso tempo allora, abbiamo perso tempo quando è arrivato il governatore Gianni, perché in campagna elettorale aveva annunciato la volontà di fare di Fidi Toscana una società 100% pubblica e quindi fino ad oggi, da un anno a questa parte abbiamo parlato di quello, oggi scopriamo che la Giunta fa retromarcia, non si va più nella direzione del totalmente pubblico ma addirittura si va nella direzione del totalmente privato, cioè dello smantellamento di Fidi quindi abbiamo perso tantissimo tempo, i bilanci di Fidi, non detto da me ma detto dalla stessa società in futuro saranno bilanci rossi, rossi, rossi ed ogni mese che passa quindi si bruceranno tantissimo, tantissimi soldi, tantissimo denaro pubblico e le operazioni che oggi sono state raccontate sono operazioni che se tutto va bene avranno un tempo di attesa di un anno e mezzo, di due anni, nel frattempo ci sono centinaia di aziende toscane che vivono e che sopravvivono o che sono sopravvissute fino ad oggi grazie alle garanzie di Fidi Toscana che dovranno andare in questo periodo di transizione al rinnovo di queste garanzie e su queste la Giunta non ha chiaro quello che succederà, oltre a pensare ovviamente alle 50 famiglie dei lavoratori che lavorano oggi in Fidi Toscana per i quali anche per loro non c'è certezza sul futuro. Abbiamo sempre avuto la consapevolezza che occorreva in Regione Toscana una finanziaria regionale, una finanziaria che facesse non solo i prestiti o che erogasse garanzie ma che sostenesse il territorio. Abbiamo negli anni criticato la gestione di Fidi Toscana, avevamo ragione, i conti lo dimostrano, guardate in dieci anni Fidi Toscana perde oltre 50 milioni di euro e brucia oltre 109 milioni di capitalizzazione. Di chi è la responsabilità di questa sciagurata gestione? Certamente è della politica, della politica che ha scelto, della politica che ha detto quali erano le imprese e che andavano aiutate, della politica che non ha mai detto una voce critica nei confronti di quella gestione. Ecco perché oggi sosteniamo una visione diversa. Intanto dobbiamo dire che non ci sono state delle risposte che avevamo chiesto in Consiglio regionale. Non ci basta un piccolo documento di quattro pagine di Prometea quando il documento complessivo è di oltre 250 pagine. Lo riteniamo un atto assolutamente sconsiderato ed anche offensivo nei confronti del lavoro dei consiglieri regionali. La documentazione di Prometea doveva essere data ai consiglieri regionali in tempo utile per studiarla e per farsi un giudizio perché troppe volte la politica è condizionata dai pregiudizi. I consiglieri regionali come tutti i politici dovrebbero invece avere soltanto giudizi e i giudizi consapevoli li hai se hai gli strumenti per formarti quel giudizio. Prometea era un elemento essenziale quella relazione per capire e per formarsi un giudizio. Noi sosteniamo alcune cose che abbiamo portato in Consiglio regionale. Il primo, abbiamo bisogno di una finanziaria regionale, abbiamo bisogno di una finanziaria che abbia dentro il 106 per sostenere e per fare garanzie alle imprese. Abbiamo bisogno di una gestione fatta di competenza, basta i prestiti e gli aiuti agli amici degli amici. Si aiutano i progetti industriali, si aiutano le imprese del territorio, prevalentemente quelle che stanno in regione toscana per quanto ci riguarda e si aiutano le imprese non quelle che sono destinate a chiudere ma quelle che hanno una prospettiva, che hanno i livelli occupazionali. Troppe volte Fidi Toscana ha aiutato imprese che dopo pochi mesi hanno chiuso, depaperando così il patrimonio industriale della regione toscana e perdendo posti di lavoro. Il terzo elemento che chiediamo è che la scelta venga fatta in tempi celeri, in tempi veloci, perché il tempo è un elemento essenziale per il sistema produttivo di questo Paese, cioè entro tre mesi. E il quarto elemento, ultimo ma non da ultimo, è il mantenimento dei livelli occupazionali, cioè la garanzia che quei 53 dipendenti di Fidi Toscana, che oggi sono delle professionalità acquisite per il nostro territorio, non debbano essere perse. Bene, anche per oggi è tutto. Dalla sala barile del Consiglio regionale della Toscana in via Cavour, dove abbiamo seguito le argomentazioni dell'ultima assise del parlamentino regionale, è tutto. Con le riprese di Marcello Sane e Simone Scalaberni vediamo appuntamento alla prossima occasione con la rubrica del Consiglio. Grazie.